Buongiorno mondo, benvenuti e bentornati in questo video in cui vi parlo di quelli che sono stati i miei prodotti assolutamente preferiti per il mese di luglio e anche di alcune scoperte e riscoperte fatte che mi hanno stupita perché un paio di esse erano in realtà prodotti che avevo già deciso di cestinare o comunque di dar via quindi iniziamo subito vando alle ciance che ho veramente delle cosine carinissime da mostrarvi stavolta Allora innanzitutto parliamo del rossetto che sto indossando adesso, è una scoperta super low cost che ho fatto grazie a un po' di shopping che avrete visto nei miei precedenti video per realizzarvi appunto il tutorial con prodotti tutti low cost questo però non ve l'ho fatto vedere come prodotto ed è di Astra ed è uno dei My Lipstick Full Color nel colore 06 in sostanza si tratta di un rossetto dal tono nude, nude carne, che è veramente bello la texture è cremosa, non è un rossetto matte, è un rossetto abbastanza cremoso ma è veramente gradevole sia all'indosso sia come portabilità non mi so dire tantissimo riguardo perché lo uso da poco però non ha nulla da invidiare dei rossetti che possiedo decisamente più costosi credo che costi 2,90€ quindi se vi capita di andare in qualche negozio che rivende Astra tra cui anche i negozi cinesi, buttate un occhio a questa linea di rossetti perché secondo me promettono davvero bene, specialmente con questi toni nude che se anche si consumano nel corso della giornata, insomma chi se ne frega che tanto si fondono con il colore delle vostre labbra cominciamo dalle riscoperte allora due prodotti di cui uno l'avevo come vi avevo anticipato già cestinato tra virgolette ossia l'avevo messo nella piena di prodotti da regalare perché non riuscivo a trovarne un utilizzo mentre l'altro l'avevo ottenuto perché tutto sommato mi piaceva sono questi due flaconcini di Niod Niod che è un brand sempre sotto l'ombrello di The Ordinary, quindi dell'azienda Decem e sono nello specifico i photography fluid nell'opacità all'8% che è quello tipo contrasting system lo chiamano quindi quello un pochino più abbronzante e invece abbiamo poi l'opacity 12% l'highlighting system che era quello che avevo messo via che è quello più chiaro per lato, illuminante le ho riscoperti perché vi dico questa breve storiella che risale esattamente a ieri sera quando vedendo che su Cult Beauty c'erano le spedizioni gratis e avevo anche un buono di 5 sterline da spendere scrollando nel sito ero rimasta intrigata dal D-Bronzy di Trunk Elephant che è un prodotto sostanzialmente che è andato a miscelare con la crema o col fondotita e che vi dà un pochino di colore quindi rende il tutto un pochino più suncaste, un pochino più abbronzato al che mi sono ricordata che anziché spiegare 30 sterline per un prodotto comunque non indispensabile potevo compararlo a questo che avevo in casa di Nude tant'è che come fluido è veramente tanto simile vedete che ha questo colore un po' bronzo che si miscela, almeno io l'ho miscelato col fondotinta anche oggi e che va a scaldare un pochino il tono del fondotinta oppure potete decidere di miscelarlo insieme alla crema viso per dare questo tono un pochino più caldo, un pochino più abbronzato quindi ho ripescato questo, stamattina l'ho provato ho detto sì è perfetto, esattamente quello che mi serviva dopo un'era che non lo tiravo fuori dal cassetto mi sono risparmiato 30 sterline, questi costano decisamente meno e se vi serve una cosa di questo tipo secondo me è perfetto tempo fa lo usavo proprio anche come bronzer con una spugnetta o un pennello ed è molto bello perché comunque l'effetto è un po' luminoso adesso non riesco a farvelo vedere troppo da vicino perché ho l'impostazione della videocamera messa così comunque se vedete è un fluido proprio che ha questo effetto bronzing quindi si spalma molto bene, si stende bene potete anche applicarlo su tutto il viso se siete leggermente più scure di me per esaltare l'abbronzatura a caso mai oppure miscelandolo con i prodotti per raffingerne una quindi è un prodotto che secondo me si presta anche benissimo per quando metto l'autoabbronzante e voglio scaldare un po' dei fondotinta che sono un po' troppo chiari invece già che c'ero poi ho ripescato anche questo che era l'Highlighting Scissor che avevo messo via non so perché non riuscivo a capire come utilizzarlo in realtà a parte il flaconcino che detesto perché questo sporca tantissimo però ho provato ad utilizzarlo come uso di solito il mio Hollywood Flores Filter di Charlotte Tilbury con una spugnetta picchiettato tamponato sugli zigomi e mi sono trovata da Dio non so perché inizialmente non mi sia piaciuto credo di averlo utilizzato su tutto il viso tipo come primer perché avevo visto un paio di youtuber farlo ma personalmente apprezzo di più questo tipo di prodotto proprio tamponato specificatamente nei punti dove voglio illuminare l'incarnato e funziona benissimo quindi io questi li ho ritirati fuori li rimetto in uso mi piacciono tantissimo se vi può servire qualcosa di questo stampo provateli un'altra riscoperta del periodo è questo prodotto di Deborah rovinatissimo ormai perché ce l'ho da un po' comunque si chiama Secrets of Contouring è un duo contour con da un lato un prodotto in crema un pochino più marrone e freddo e dall'altro ha una parte crema illuminante allora la parte crema la uso decisamente poco se non mai ma questa parte è perfetta per un contouring in crema perché ha il tono veramente giusto, neutro, quasi un pochino più freddino per andare a scolpire un pochino il viso quindi prima di applicare la cipria in sostanza vado a fare le mie lineette sotto lo zigomo sulla fronte, sotto il mento sfumo facilmente sia con pennello che con spugnetta e mi fa un contouring perfetto mi piace tanto quando mi ricordo di non applicare prima la cipria costa poco è un prodotto veramente versatile mi piacerebbe avere un unico pennarellone diciamo senza la parte illuminante perché alla fine uso solo questo e si consuma in fretta però il prodotto è veramente buono cioè si sfuma senza difficoltà e non fa l'effetto finto o troppo marcato assolutamente un prodotto da provare se mi interessa uno stick per il contouring crema oppure come contour invece in polvere mi sono follemente innamorata di questo prodotto di Peterac che mi è stato mandato che vi ho già mostrato in azione nel video dedicato è una terra perfetta per fare contouring oggi addirittura l'ho usato sul viso come bronzer ma vedo che è un po' troppo freddino nel senso che non mi scalda molto mi dà un aspetto un po' pallidino quindi preferisco tenerlo proprio per fare un po' di per definire un pochino gli angoli del viso però come terra è strepitosa ha una polvere sottile che si sfuma veramente senza difficoltà il tono va benissimo anche per un incarnato molto chiaro e oltretutto è un'azienda italiana bio che quindi insomma dovrebbe invogliarvi ulteriormente a provare questo prodotto non solo questo tra un po' vi parlo anche di un altro loro prodotto però questa terra veramente in tutto e per tutto mi astra convinta è la Namib 44 gradi O vi consiglio di darci un'occhiata e se siete più scure e volete un bronzer più caldo un po' più caramello c'è anche l'altra terra che vi ho mostrato che è veramente bella le polveri di Peterac mi piacciono un sacco e già che ci siamo preferitissimo assolutamente lo inserisco sia tra i preferiti sia tra le scoperte come la terra il nuovo illuminante appartenente alla collezione Sea Vibes fatta in collaborazione con Giulia Cova questo è il Pop of Peach illuminante 47 gradi O ed è l'illuminante color pesca perfetto mi piace da impazzire lo sto utilizzando veramente fin troppo spesso ma al giusto tono è un giusto equilibrio tra pesca e rosa e oro chiaro senza che risulti troppo scuro tanti illuminanti pesca tra cui uno di Becca che possiedo virano troppo spesso al dorato al dorato caldo mentre questo è proprio un tono neutro equilibratissimo veramente perfetto anche per gli incarnati super chiari come il mio io me ne sono innamorata ragazzi dovete prendermi questo illuminante e in generale gli illuminanti di Peterac mi fanno impazzire lo sapete però questo tra tutti è in assoluto il mio preferito veramente veramente un ottimo lavoro e niente me lo swatch ogni tanto già solo per vederlo perché è talmente bello che non resisto poi invece altre scoperte allora il mascara di neve il Black Bubble non è quello che indosso oggi oggi ho provato per la prima volta il nuovo mascara di We Make Up di cui vi saprò dire più avanti comunque il Black Bubble è una certezza tra tutti il mascara di neve è quello che mi piace in assoluto di più ha uno scovolino che ricorda molto quelli di L'Oreal della linea Paradise Extatic che mi piacciono da matti è bello cremoso bello corposo estremamente volumizzante ma anche allungante per un mascara ingredienti naturali vi garantisco che non ha nulla di meno rispetto a tanti altri mascara di profumeria tradizionale volumizza tantissimo dovete stare solo un po' attenti a distribuire bene la formula in modo che non si impiastricci troppo perché tira fuori veramente tanto prodotto lo scovolino ma se fate un po' di attenzione e stirate bene il prodotto sulle ciglia vi garantisco che l'effetto è spettacolare resiste tranquillamente anche con queste temperature tropicali non ho avuto problemi che non si stampi non si sbriciola niente non è waterproof ma poco importa perché nella vita di tutti i giorni voglio un mascara che regga ma che la sera sia facile struccare e questo lo è io lo adoro lo ricomprerò assolutamente una volta terminato e veramente faccio i miei complimenti a Neve perché con questo hanno fatto un lavoro eccezionale ritorniamo a Piterac con un altro paio di prodotti potevo citarli un attimo fa ma mi sono sfuggiti comunque sapete che nel video dedicato a Piterac vi ho detto che gli ombretti che avevo provato non mi erano piaciuti tanto in particolare gli ombretti opachi invece amo la follia rose gold che possiedo adesso in entrambe le versioni però per realizzare il trucco di oggi che ho copiato spudoratamente da Giulia in uno dei suoi video ho utilizzato alcuni degli ombretti della collezione appunto Sea Vibes che è questa estiva e ci tengo a dirvi che gli ombretti di questa linea di questa collezione sono sono perfetti in particolare il corallo che si chiama aspettate ve lo dico subito Living Coral dedicato insomma al colore pantone di quest'anno che è quello che ho nella piega e anche sotto la rimaciglia inferiore è burro è burro è super pigmentato è super vellutato è super sfumabile super intenso non ha assolutamente nulla a che vedere con gli ombretti che ho utilizzato in quel video hanno veramente migliorato drasticamente la formula è spettacolare ma così come lo sono anche gli ombretti metallici adesso ho utilizzato sulla palpebra mobile mobile Orange Sun che è questo dorato caldo aranciato bellissimo che secondo me sta veramente da dio in collaborazione in concomitanza con Living Coral infatti l'aveva mostrato questo look Giulia in un suo ultimo video e me ne sono innamorata perché fanno un sacco di contrasti insieme ma sono anche molto complementari però adoro anche questo che si chiama Prismatic Spring 23 gradi S che invece apparteneva a un'altra collezione primaverile metallici o comunque i colori shimmer sono veramente belli a prescindere e poi questo non l'ho ancora usato Electric Blue ma ragazzi questo ombretto spacca cioè guardate che roba adesso non so più dove sfocciarvelo è un blu elettrico con riflesso azzurro in cima ed è pazzesco non vedo l'ora di utilizzarlo in un trucco non so se fare un look monocromatico tipo con solo questo su tutta la palpebra però devo dirvi che questi ombrettini di Peter Hack gli ultimi usciti veramente mi hanno fatto cambiare completamente idea e spero riformulino anche gli altri ombretti in particolare i matt seguendo la texture di Living Coral perché è perfetto veramente strepitoso e menzione velocissima ad un blush sempre di Peter Hack che è sempre della collezione Sea Vibes ed è Golden Peach che è un blush pescato con dei micro shimmer dorati all'interno è un colore bellissimo 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 in particolare la collezione mi è piaciuta quasi tutta se non per l'illuminante liquido che ancora sto cercando di studiare però questo come tono è bellissimo e tra l'altro ultimamente credo di avere una lieve fissa per i blush tant'è che adesso vi faccio vedere un altro paio di prodotti che sto usando e amando alla follia però Peter Hack mi ha stupito veramente ottimo lavoro con quest'ultima collezione hanno superato se stessi parlavamo di blush e io ragazzi non posso che stra 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 consigliarvi nonostante il prezzo ma lo faccio veramente a cuore aperto uno dei nuovi blush di Dior della linea Dior Skin Nude Luminizer Blush quindi quei blush luminosi che hanno lanciato veramente poco tempo fa io qua ho il colore 10 che è un corallo satinato luminoso che è la fine del mondo adesso non lo indosso perché oggi mi sono truccata con un po' di prodotti che non utilizzavo da un pezzetto però questo qua da solo quando mi trucco la mattina e metto veramente solo un velo di mascara sulle ciglia e ci tengo a curare un pochino di più la base questo come blush mi risveglia proprio il viso in una maniera pazzesca il colore è super estivo anche su un incarnato chiaro è molto bello perché proprio vi da quest'aria fresca salutare e oltretutto hanno un profumo un profumo fruttato estivo cioè sono di vacanza praticamente comunque l'altro è un pochino troppo scuro per me che ha un colore più prugna diciamo ma questo lo sto usando tantissimo lo adoro lo adoro lo adoro nonostante il prezzo compratelo se vi capita di trovare qualche scontistica sfruttatela risparmiate però veramente si stratifica che è un sogno ma l'effetto poi indossato è bellissimo innamoratissima di questo blush così come sono innamoratissima anche di questo di MAC che è Just a Pinch della linea Extra Dimension Blush che sono questi blush super luminosi quasi metallici e questo è un color pesca con però un riflesso dorato ma abbastanza neutro di insomma superficie tipo il mio New Romance forse un pizzico più caldo perché questo è già un pizzico più pescato proprio però è bellissimo non c'è effetto più bello secondo me sul viso di quella tridimensionalità data proprio dalla sovrapposizione di un po' di illuminante un po' di blush luminosi che quando muovete il viso proprio riflettono a luce senza però risultare eccessivi vanno dosati per carità come prodotti però l'effetto della resa finale è da 10 e lode e questo blush mi fa impazzire tantissimo io non so che cosa abbia ultimamente ma veramente posso non truccare gli occhi se non per il mascara ma sbizzarirmi sulle guance perché vado matta veramente per questi effetti un pochino più luminosi ok gli ultimi due prodotti di cui voglio parlarvi sono un'altra scoperta che è l'all night ve ne ho già parlato sapete che mi sono data della scema per non averlo provato prima però effettivamente quel prodotto che con questo caldo se io mi trucco la mattina e lo spruzzo io noto che a fine giornata per quanto comunque continui a lucidarmi perché non è che impedisca alla pelle di lucidarsi però aiuta a far sì che tutti i prodotti rimangano fissi al loro posto quindi una volta temporato un po' l'eccesso di sebo tutto il resto rimane al suo posto mi piace tanto penso comunque che contenga dell'alcol all'interno quindi non so magari non è indicato da utilizzare tutti i giorni però per eventi particolari o giornate dove avete veramente bisogno che il trucco rimanga al suo posto da mattina a sera è un prodotto che veramente consiglio e che utilizzerò sicuramente per il mio matrimonio infatti adesso non lo voglio utilizzare troppo deve resistere un altro mesetto perché non arrivi proprio al giorno del matrimonio che l'ho finito non ho parità e ultima cosa in realtà non è tanto il prodotto in sé ma l'utilizzo che ho riscoperto grazie sempre a Giulia io la smetterò di citare Giulia in tutti i miei video perché sta cominciando a diventare imbarazzante questa cosa però ha fatto un video molto carino dedicato a un sacco di trucchetti che si utilizzano che lei utilizza nel beauty in generale sia dalla skin care che al make up per aumentarne l'efficacia o la resa e tra le cose mi ha fatto ricordare di utilizzare l'acido di aluronico in siero per diluire o comunque per ammorbidire le formule dei fondotinta ed effettivamente mi sono data della scema perché l'ho fatto per un sacco di tempo poi l'ho messo via l'acido di aluronico lo usavo solo la mattina o la sera come skin care e mi sono dimenticata di utilizzarlo anche in questo modo scema io comunque adesso l'ho ripescato sto usando quello di matte di visione cosmetica l'age active che è un siero l'acido di aluronico non particolarmente costoso quindi non mi dispiace utilizzarlo in questo modo ma ne misco due o tre gocce insieme il fondotinta che hanno una texture un po' più cremosa quindi adesso che fa tanto caldo magari risultano un po' pesantini nell'applicazione e aiutano a rendere la formula un pochino più fluida di conseguenza un po' più leggera anche all'indosso idratando un pochino di più la pelle ma al contempo non rendendoli troppo nutrienti o troppo cremosi cioè non è come mischiare l'olio con il fondotinta lì magari aiutate a rendere la formula più emolliente ma anche rischiate anche di renderla troppo grassa per il tipo di pelle magari se è un pochino più misto grasso l'acido di aluronico invece aggiunge acqua alle formule senza aggiungere nutrimento quindi di conseguenza lo rende un pochino più idratante ma al contempo non rischiate di diventare delle palle lucide di lardo nell'arco di poche ore di indosso quindi ottimo mi ero dimenticata adesso l'ho riempiegato veramente nel mio quotidiano e sto fluidificando qualunque fondotinta ormai io ho questa cosa che devo miscelare il fondotinta con qualcosa se no non sono contenta e so che alcuni di voi mi detestano per questo ma ragazzi è più forte di me ebbene credo che di essere stata anche abbastanza rapida questa volta spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi scritti giù nei commenti i vostri suggerimenti i vostri prodotti preferiti qualcosa che dovrei assolutamente provare io comunque sono estremamente soddisfatta perché questo mese ho fatto delle scoperte davvero davvero interessanti e sono contenta di averle condivise insieme a voi in ogni caso io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto ad iscrivervi al canale se vi possono interessare i miei video e anche di attivare la campanella per essere aggiornati ogni qualvolta pubblico un nuovo video perché ultimamente vedo che tanti di voi non vedono proprio i miei video nel loro feed su youtube quindi mi fareste un enorme piacere e mi aiutereste anche un po' nella crescita del canale in ogni caso spero tanto di rivedervi nel prossimo video vi mangio vi mangio no vi mando un grosso saluto un abbraccio e a presto ciao mua